Musica Buonasera dal Tg6, in apertura il trasporto pubblico locale. La regione Abruzzo infatti ha varato la terza parte della riforma che lunedì passerà in commissioni. Sono previsti sconti e abbonamenti gratis per disoccupati e studenti, dall'altra parte invece ci saranno dei rincari del 15%. Ci spiega tutto Alfredo Primante. Abbonamenti e pullman gratis per gli studenti con ISEE familiare sotto i 15 mila euro e sconti del 50% per disoccupati e inoccupati che frequentano corsi di formazione della regione Abruzzo oppure sono iscritti ai programmi di inserimento lavorativo come ad esempio Garanzia Giovani. Queste le agevolazioni previste nella bozza della terza parte della riforma del trasporto pubblico locale che lunedì passerà al vaglio della commissione competente e poi martedì probabilmente approderà in consiglio regionale. Per la prima volta nella nostra regione le famiglie meno abbienti dalle fasce di povertà in su non pagheranno per esempio per i propri figli per andare a scuola così come i disoccupati che prendono i mezzi pubblici per recarsi a un corso di formazione piuttosto che attività finanziate dalla regione in alcuni progetti, pensa obiettivo a Garanzia Giovani per andare nel proprio posto di lavoro e di studio, di formazione o di riqualificazione per il periodo del progetto non pagheranno. E' una rivoluzione che inizia ad essere introdotta man mano che le risorse disponibili finanziarie appunto si rendono disponibili per poter poi trasferire queste maggiori risorse, queste disponibilità a favore degli utenti, dei cittadini. Ma non sono tutte notizie positive quelle annunciate dal consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro. In programma infatti c'è un aumento del 15% del costo dei biglietti e degli abbonamenti per far fronte agli 8 milioni di euro di penalità per non aver rispettato nel 2012 e nel 2013 il parametro del 35% tra costi e ricavi del trasporto pubblico. Dunque se la media di un abbonamento annuale è di 200 euro bisognerà sborsare 30 euro in più per circolare con i mezzi pubblici. Accanto agli aumenti anche la razionalizzazione delle corse. Stoppa le sovrapposizioni ai bus che viaggiano vuoti o con fino a 5 utenti. Un taglio complessivo del 5% del chilometraggio non lineare ma selettivo in base alla mappatura delle corse fatta da TUA. Per essere chiari un costo di chilometro di trasporto pubblico locale in Abruzzo deve costare uguale a Lombardia uguale al Veneto. Siccome per quegli anni ciò non accadeva vuol dire che noi dobbiamo incidere su due fattori. Diminuire i costi e lo stiamo facendo con TUA ma anche con gli altri con la razionalizzazione dei costi e aumentare i ricavi. Per cui a fronte anche di un aumento minimo del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti salvaguardiamo le fasce più deboli. Ora parliamo di lavoro. 119 lavoratori abruzzesi avranno diritto alla cassa integrazione in deroga. Lo ha stabilito il CICAS, il comitato di intervento per le crisi aziendali, che ha preso un impegno di spesa pari a 169 mila euro. Ascoltiamo. Gli ex dipendenti di Attiva S.p.a., la società in house del comune di Pescara, avranno il trattamento di mobilità in deroga per tre mesi. Lo ha stabilito il CICAS, il comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore, con votazione unanime di tutti i componenti. La decisione, che ha carattere di eccezionalità, riguarda 41 ex dipendenti della società rimasti fuori dopo le procedure concorsuali. E' bene chiarire, ha detto l'assessore alle politiche del lavoro, Andrea Gerosolimo, che il comitato si è trovato di fronte a un caso eccezionale. Con questo spirito ha deciso di dare il via libera alla mobilità. L'eccezionalità è stata giustificata dalla grave crisi occupazionale degli ex lavoratori, che ormai dura da mesi, ma soprattutto dall'impegno formale assunto direttamente dal sindaco Alessandrini nel corso della seduta, che entro la fine del mese di agosto la società attiva avvierà l'iter per la stabilizzazione degli addetti, avviando le procedure per la selezione pubblica per l'assunzione di personale. La decisione del CICAS su attiva è arrivata dopo che il Ministero del Lavoro ha confermato in una nota ufficiale parere favorevole all'utilizzo delle somme del 5% per la concessione di un periodo di mobilità in deroga in favore degli ex lavoratori precari della società attiva. Nello specifico saranno massimo tre i mesi di mobilità in deroga riconosciuti e comunque non oltre la data del 31 dicembre. La misura può essere concessa anche retroattivamente in favore di quei lavoratori il cui periodo di napsi è terminato nel 2015. Stesso discorso è interessato anche Euroimpianti Gruppo di Avezzano, ai cui dipendenti è stato riconosciuto un periodo di cassa integrazione in deroga dal 4 gennaio al 2 aprile 2016, sempre a valere sul fondo del 5%. Nella stessa seduta infine sono state accolte tutte le richieste di cassa integrazione in deroga pervenute fino al 4 agosto. Si tratta nello specifico di 18 istanze di imprese per un totale di 119 lavoratori e per un impegno di spesa di 169 mila euro. E sul tema è intervenuto anche il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Si tratta di un risultato eccezionale e straordinario per un'avvertenza che ha determinato un vivo allarme sociale nella città, conseguito grazie al lavoro congiunto portato avanti in questi mesi da Regione Abruzzo e Comune di Pescara e all'ascolto avuto sul fronte ministeriale in merito all'avvertenza dei lavoratori. Queste le parole di Marco Alessandrini dopo quanto stabilito dal CICAS circa la mobilità in deroga per i 41 ex dipendenti di Attiva S.P.A. Ricordiamo che hanno mantenuto un presidio proprio davanti al Palazzo del Comune dal mese di gennaio. Cambiamo argomento, parliamo di sanzioni amministrative di estate tranquilla. 35 mila euro queste le sanzioni elevate dai carabinieri del NAS di Pescara a conclusione di una maxi attività di controllo all'interno di una serie strutture in tutta la nostra regione. Andrea Costantini. Carabinieri del NAS in azione nell'ambito dell'operazione estate tranquilla 2016. Sottoposti a controllo 21 stabilimenti balneari, 14 aziende agrituristiche, 6 pescherie, 4 caseifici e 6 autonegozi intesi come i camioncini che vendono panini e bibite di cui sono piene le riviere nei pressi dei locali del divertimento. Il bilancio complessivo ha portato all'erogazione di sanzioni amministrative per oltre 35 mila euro. Il valore delle strutture per le quali è stata disposta la sospensione ammonta 2 milioni di euro. Il valore della merce sottoposta a vincolo è di circa 85 mila euro. In particolare sono stati sospesi gli esercizi di due autonegozi colpiti da provvedimento dell'AS di Pescara per le carenze igienico-sanitarie nella produzione e conservazione di alimenti con contestuale denuncia dei proprietari e sequestro di 50 kg di alimenti stoccati in ambienti insalubri e a temperature difformi rispetto a quelle previste per la conservazione. 300 kg di prodotti di origine animale e vegetale sono stati sottoposti a vincolo in due bar e ristoranti allestiti presso stabilimenti balneari della costa adriatica poiché in cattivo stato di conservazione. Le due strutture per questo motivo sono state chiuse dalla ASL. In provincia di Teramo, in una pescheria con annessa attività di gastronomia, in ASL hanno denunciato i titolari per tentata frode nell'esercizio del commercio, ovvero per aver posto in vendita pietanze preparate con prodotti ittici di origine congelata senza darne alcun avviso ai consumatori. Sospesa l'attività di un caseificio nell'Aquilano, mentre in provincia di Chieti, in un ristorante annesso ad uno stabilimento balneare, i militari hanno rinvenuto circa 50 kg di prodotti alimentari di origine animale carenti di informazioni sulla tracciabilità. Per gli stessi è scattato l'immediato vincolo sanitario con avvio alla distruzione. Per i locali carenti dei requisiti strutturali e genico-sanitari, l'autorità competente è disposto all'immediato sgombero e in utilizzo. Infine è combinata sanzione per 6.700 euro ad uno stabilimento che, nel corso di una serata con intrattenimento musicale, ha somministrato bevande alcoliche dopo le ore 3. L'attività rientra nella volontà di prevenire e reprimere binge drinking, la cosiddetta abbuffata alcolica. Carbiamo argomento. La Regione Abruzzo ha presentato una denuncia alle autorità competenti, tra cui le procure della Repubblica di Avezzano e dell'Aquila, contro la sorgente Santa Croce S.p.A. di Canistro, marchio di acqua minerale di rilevanza nazionale, per violazione dei sigilli. Perché, secondo quante sarebbe emerso dai controlli fatti dallo stesso ente, la società avrebbe continuato a captare acqua, nonostante il divieto intimato lo scorso mese di ottobre dallo stesso ente nazionale, la regionale. Ma l'azienda, acquisita alcuni anni fa dall'imprenditore molisano Camillo Colella, risponde per le rime alla Regione, annunciando anch'essa il ricorso alla magistratura, per cui tra le parti è un autentico muro contro muro. I sigilli erano stati apposti, subito dopo la revoca, alla luce di un precedente bando della concessione, peraltro affidata dalla Regione in via provvisoria, a causa di una documentazione ritenuta non regolare, in particolare per il documento unico di regolarità contributiva carente, e a confermare la presunta violazione il dirigente regionale del Servizio di Attività Estrattive e Risorse Territoriali, RIS Flacco, per la quale c'è stato un considerevole utilizzo di acqua, nonostante la decadenza della concessione per il DURC non regolare. Sono in preoccupante aumento i casi di truffa agli anziani. La Polizia di Stato lancia una campagna di sensibilizzazione con la diffusione sui social network e Twitter di un video con la voce del conduttore Gianni Politi. Lo vediamo. Non siete soli, chiamateci sempre. Con questo slogan la Polizia di Stato ha avviato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione tesa a contrastare truffe e raggiri. ai danni degli anziani. Un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni. Basti dire che in Abruzzo si è passati dai 185 casi del 2013 ai 327 del 2015. Trend analogo a livello nazionale, visto che nel primo semestre del 2015 le truffe agli anziani sono state poco più di 8.000, mentre nel primo semestre di quest'anno sono salite ad oltre 9.100. Nei modi più disparati, ma il fine di questi maliventi è sempre lo stesso. guadagnare la fiducia dell'anziano, entrare in casa, distrarlo e poi portare via soldi o oggetti preziosi. Si presentano in maniera educata come operatori socioassistenziali, antennisti, dipendenti di aziende di fornitura, amministratori di condominio o amici di familiari e vicini. I consigli sono, tra gli altri, non aprire gli sconosciuti, accertarsi dell'identità prima di fargli entrare, diffidare sempre degli affari eccessivamente convenienti e se inavvertitamente è stata aperta la porta a sconosciuti, invitarli con decisione a uscire. In caso di situazioni sospette, non esitare a contattare i numeri di emergenza, 112, 113 e 117. La campagna della polizia appoggia sulla diffusione di un video attraverso i social Facebook e Twitter. La voce è quella del conduttore Gianni Politi con la collaborazione degli attori Fabiana Latini e Giovanni Platanino. D'estate c'è chi non va mai in vacanza, anzi è in piena attività. Sono i truffatori. Si presentano a casa vostra come appartenenti alle forze dell'ordine o per controlli su acqua, luce, gas o per consegnare pacchi truffa. Non siete soli. Chiamateci sempre. Continua la polemica sull'annanciato progetto della variante sull'A24 e A25 del gruppo Toto e oggi a intervenire è Gianluca Vacca, il deputato del Movimento 5 Stelle che annuncia la bocciatura da parte del Ministero dei Trasporti. Vediamo. È una sonora bocciatura senza appello quella che arriva dal Ministero dei Trasporti in merito al progetto di modifica del tracciato autostradale abruzzese relativo all'A24 e A25. Oggi, rispondendo alla mia interpellanza urgente infatti, emerge un quadro molto più nitido di quanto avvenuto negli ultimi due anni delle posizioni in campo. Ad affermarle Gianluca Vacca, deputato del Movimento 5 Stelle che proprio oggi ha discusso l'interpellanza alla Camera. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferisce il parlamentare ha di fatto certificato la totale mancanza di qualsiasi presupposto normativo e amministrativo al progetto di modifica del tracciato confermando che gli unici lavori possibili sono appunto quelli di manutenzione e messa in sicurezza dell'attuale percorso per un investimento totale stimato di circa un miliardo di euro. Inoltre, nella ricostruzione che viene fatta nella risposta fornita oggi si evince come il Ministero nella corrispondenza con la società iniziata nel 2013 abbia sempre chiesto alla Società Strada dei Parchi di fare un piano economico finanziario esclusivamente per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza senza nessuna variante al tracciato poiché appunto queste non sono possibili nell'ambito della convenzione in essere in base alla normativa vigente. Dall'altro lato, la società invece avrebbe sempre inserito anche le varianti nel piano ostinandosi a ripresentarle in tutte le occasioni utili ma vedendosele sempre respinta aggiunge Gianluca Vacca. Resta da chiedersi aggiunge Sara Marcozzi capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo per quale motivo il Presidente D'Alfonso abbia tanto caldeggiato la realizzazione di questa devastante opera. Ora non ha più alibi se ne faccia una ragione il Ministero ha confermato quello che in Regione dicevamo da tempo il progetto è in contrasto con direttive europee e leggi statali che consentono solo opere di messa in sicurezza e non nuovi tracciati. Ci auguriamo a questo punto che si interrompa quella che sembrava un'ingiustificata azione di sponsorizzazione dell'opera da parte del Governo regionale che si interrompa il tendenzioso dibattito sugli organi di informazione locale e che il Presidente D'Alfonso comincia a curare le reali esigenze e priorità dei cittadini abruzzesi salute, lavoro, società e trasporto pubblico tutte questioni sulle quali il Governo regionale sta operando scelte scelerate. E ora parliamo di un'altra campagna di sensibilizzazione che parte dalla Valle Peligna il tour del camper della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere. Germana Dorazio Non voglio che finisca così Nell'ambito di questa campagna il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere fa tappa sul Mona sabato 6 agosto Dallo scorso 2 luglio in 14 province italiane fra cui la provincia dell'Aquila è partita l'iniziativa denominata il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere che oltre a informare i cittadini su questo tipo di violenza che colpisce prevalentemente le donne favorisce l'immersione del fenomeno agevolando e favorendo un contatto diretto con le potenziali vittime e offrendo loro il supporto di un'equipa multidisciplinare composta da operatori specializzati presenti all'interno di un camper di Polizia di Stato insieme ad altre figure di supporto sabato 6 agosto dunque dalle ore 10 alle ore 13 il camper farà sosta nella città di Sulmona in piazza del Carmine ed effettuerà dei passaggi anche in altri punti della città oltre al personale di Stato fra cui anche un medico saranno presenti alcuni operatrici dei centri antiviolenza che operano a Sulmona la Libellula è libera di Osa il 20 agosto poi il camper farà tappa a Tagliacozzo il 3 settembre sarà all'Aquila nel progetto case di Preturo e di Pagliari di Sassa il 17 settembre sempre all'Aquila nei centri commerciali Carfour e Aquilone e questa mattina l'assessore alla formazione Marinella Sclocco ha presentato un progetto europeo si chiama ING ed è un corso per tecnico superiore delle reti e delle tecnologie dell'informazione per le smart cities Paolo Renzetti Assessore Sclocco oggi presentate in regione questo importante progetto ING che riguarda la regione l'Università dell'Aquila con un impegno importante di 500 mila euro Sì, How Win to Challenge il titolo esteso del progetto 450 mila euro per i ragazzi italiani macedoni e spagnoli che fanno parte del partenariato che ha vinto appunto questa bella somma per scambi di istruzione e formazione per formare appunto e quindi anche di occupabilità perché per formare i ragazzi all'ICT quindi alle nuove tecnologie in ambito soprattutto di energia rinnovabile quindi di risparmio energetico insomma tutto quello che è la ricerca in questo campo il partenariato vede la regione Abruzzo all'interno vede l'Università vede istituzioni macedoni e spagnole ma vede anche un ITS che è l'ITS che la regione finanzia che è appunto un istituto tecnico superiore dell'Aquila che è dedicato proprio all'energia rinnovabile quindi andranno ci sarà uno scambio ci saranno scambi trasnazionali tra i nostri giovani ripeto sul tema serio specifico dell'ICT applicato alle nuove energie e ora parliamo di valorizzazione del territorio con la posa della prima pietra è partito il primo lotto della pista polifunzionale della Valle Aterno che sarà lunga 80 km vediamo da Capitignano a Molina Aterno in bicicletta è stata posta la prima pietra della pista polifunzionale della Valle dell'Aterno con l'appalto del primo lotto per 1.350.000 euro sono partiti i lavori per la realizzazione di 6 km di pista degli 80 km complessivi di tutto il percorso è un progetto modulare io dico sempre che in Italia le grandi opere c'è chi le pensa le pensa soltanto e poi non sia d'opera per farle poi c'è chi le progetta invece chi trova le risorse finanziarie chi le procedimentalizza e quindi realizza l'opera ecco io rivendico con forza l'aver contribuito a realizzare quest'opera pensandola progettandola attraverso l'università mettendo al centro della mia azione politica l'università con il comune dell'Aquila e quindi realizzando quest'opera saranno realizzati i primi 6 km nel giro di pochissimi mesi è un primo stralcio attraverso il finanziamento di un fondo FAS di 1,3 milioni di euro che riuscì a trovare appena insediato in regione dopodiché sono riuscita a far stanziare ulteriore 10 milioni di euro adesso dovremmo fare delle scelte se fare il tratto subito quello cittadino aquilano oppure proseguire fino alla Valle Aterno perché sulla parte dell'Alto Aterno abbiamo dei problemi legati all'interconnessione della superstrata dell'Aquilamatrice quindi terzo e quarto lotto ci saranno più problematiche e poi abbiamo ulteriori 5 milioni di euro che abbiamo fatto stanziare restiamo in provincia di L'Aquila dall'8 al 12 agosto a Castel del Monte ci sarà la sedicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale vediamo oltre 600 documentari in archivio 6 pubblicazioni e 16 anni di esperienza alle spalle riparte dopo le difficoltà del post-sisma il Festival Internazionale del Cinema Naturalistico ed Ambientale quest'anno con la formula della rassegna e non del concorso un cartellone ricco di eventi dall'8 al 12 agosto con proiezioni e dibattiti inseriti nella cornice di Castel del Monte noi siamo orgogliosi e contenti di poter ospitare il 16esimo Festival del Cinema Naturalistico anche perché Castel del Monte è all'interno del Parco Nazionale Granzasse e Monti della Raga completamente all'interno quindi per noi l'ambiente e la natura è fondamentale per lo sviluppo turistico del nostro territorio Castel del Monte è la capitale dei pastori ha mantenuto negli anni proprio grazie a loro l'ambiente così incontaminato senza toccarlo e quindi le location che i film tutti le casse cinematografie sono venuti a fare è proprio perché c'è una location naturalistica bellissima nel comune Aquilano Borgo più bello d'Italia scenario di numerosi film che hanno fatto la storia del cinema dalle di occhi in poi si comincerà lunedì 8 con il tema del lupo poi martedì 9 il dibattito sul sisma e sulla ricostruzione il 10 invece fa ripuntati sull'economia circolare mentre il 12 ci sarà l'omaggio alla pastorizia il tutto condito da proiezioni di documentari attinenti al tema delle giornate ne abbiamo diverse iniziative in campo sia sul ambito territoriale costiero che su quello montano questa nel cinema ambientale naturalistico e itinerante aggiungiamo noi è una di quelle montane è la prima tappa almeno quella a cui parteciperemo noi in maniera diretta e fattiva proprio a Castel del Monte ovviamente lì si discuterà di tutto di molto di ciò che riguarda l'ambiente abruzzese ma prevalentemente di ciò che è la vita nelle aree protette montane ed ora parliamo di una rievocazione storica siamo a Tortoreto e dal 14 al 16 agosto ci sarà il palio del Barone le novità per quest'anno sono innanzitutto la nuova grandama che verrà impersonata da Benedetta Felci e un'altra importante novità è l'introduzione di un concorso di fotografia il palio in un click che mira proprio diciamo a diffondere la conoscenza della nostra manifestazione e quindi invitiamo tutti coloro che verranno a vedere il palio a lasciare una fotografia ovviamente ci sarà anche un premio per il vincitore una premiazione insomma per i finalisti gli appuntamenti sono 14 agosto a Tortoreto Lido serata inaugurale del palio del Barone e poi 16 agosto nel centro storico di Tortoreto Alto con il palio vero e proprio quindi la sfida tra i rioni Terra Vecchia e Terra Nova il palio del Barone bisogna averlo dentro bisogna avere la passione per per fare questa manifestazione per realizzarla per costruirla se non la si addentro non si possono fare certe cose questo ci inorgoglisce ci fa notevolmente piacere significa che stiamo lavorando bene che abbiamo lavorato bene e che lavoreremo continueremo a farlo anche in futuro siamo stati selezionati dalla Codacons come una delle migliori manifestazioni d'Italia quindi diciamo che adesso toccherà agli altri votarci per essere la più bella d'Italia cultura marinare invece ad Alba Adriatica per la decima edizione del Trofeo del Mare vediamo sarà il mare anche quest'anno accullare il sogno di tanti amanti della specialità pattino e pedalò per una domenica di festa perché il mare ospita il decimo Trofeo del Mare Città di Alba Adriatica tanti saranno i partecipanti agonisti e non che si cimenteranno in una singola attenzione ricordando Maria Rosaria di Giandomenico siamo arrivati con molta fatica diciamo a questo decimo Trofeo del Mare speriamo che le previsioni siano buone per domenica quest'anno ci sarà anche una prova vediamo inserire oltre i pattini pedalò e i pattini per i bambini una gara di nuoto c'è stata molto richiesta l'anno scorso quest'anno tendiamo di fare anche questa gara di nuoto un aspetto importante è la macchina organizzativa che vede attorno a Bruno di Giandomenico tanti partner molti gli sponsor che hanno sostenuto e continuano a credere in questa progettualità che vede il mare protagonista e chi ama il mare soprattutto certamente ho tanti amici che mi danno una mano come sempre mi hanno sempre supportato io ringrazio tutti e speriamo sempre così ogni anno di andare avanti negli anni una data importante perché dieci anni di un'associazione lui sempre presidente io sempre vicepresidente qualcuno è venuto a mancare come l'anno scorso è un consigliere Oreste Silvestino che l'abbiamo mangiato ma come abbiamo fatto anche negli anni passati abbiamo sempre ricordato i ragazzi che hanno perso la vita del terremoto Ivan Rossi quindi non solo il ricordo della figliola di Bruno grande ricordo anche a tutti i concittadini che ci sono venuti a mancare è sempre un evento del mare è una gioia l'appuntamento dove e soprattutto a che ora iniziamo domenica alle ore 9.30 presso le acque in distanza del circolo nautico di Alba Triadica apriamo la pagina dello sport la serie A il Pescara ancora calciomercato al centro dell'attenzione il Pescara è davvero vicinissimo al difensore ungherese Guzmix la difesa però ancora è da completare così come l'attacco l'ultima idea è quella del nordirlandese ex Palermo Kyle Lafferty calde anche le piste Trotta e Bergessi ascoltiamo Richard Guzmix sarà un nuovo giocatore del Pescara sembra ormai tutto fatto il difensore ungherese fermerà un contratto biennale con opzione per il terzo discreta esperienza internazionale per il classe 1987 sia con la nazionale ma anche con il Visla Cracovia con cui il Pescara ha raggiunto un accordo quasi blindato non sarà l'unico arrivo perché dietro qualcosa ancora manca le piste portano a Cesare Bovo di quel Torino che ha appena fatto suo il greco Taxidis dal Genoa piace anche Cherubin del Bologna Ghiomber della Roma è un vecchio pallino e poi c'è Yao dell'Inter appena tornato dal prestito al Crotone con i nero azzurri c'è in piedi l'idea di un'operazione anche più ampia che potrebbe riguardare Hassan e Gnucuri i rapporti sono caldi dall'affare Biraghi Caprari anche se Ausilio vorrebbe strappare per l'anno prossimo anche il sì di Valerio Verre Inter Sassuolo e Napoli che restano vigili su Vittorini il nazionale Under 19 fresco vice campione d'Europa con la selezione di Paolo Vanoli davanti inizieranno presto le grandi manovre perché il reparto è ancora essenzialmente da completare Marcello Trotta non è stato utilizzato dal Sassuolo nel match contro il Lucerna ed è un nome che sembrava essersi raffreddato prima di tornare a Gallia poi ci sarebbe Gonzalo Bergessio l'argentino dell'Atlas però sarebbe anche l'oggetto del desiderio di altre squadre sudamericane e a quel punto toccherà Alex Sampdoria decidere se tornare o no in Italia l'ultima idea è quella di un altro ritorno in Italia il nord irlandese Kyle Lafferty già transitato nel campionato italiano nella stagione 2013-2014 con la maglia del Palermo in questo momento è di proprietà del Norwich società che gioca nella Championship la Serie B inglese ma l'esperienza ammaturata nel bel paese lo rendono comunque un profilo interessante a proposito di ritorni la suggestione vera è quella che porta Francesco Serafino il ragazzo di Fuscaldo in provincia di Cosenza che ha 12 anni ha seguito il padre in Argentina e che oggi si ritrova tesserato niente meno che con il Boca Junior ha giocato già con Roma e Regina e chissà che non sia un delfino a fargli attraversare l'oceano per tornare in patria il Pescara scende in campo ancora una volta per solidarietà una serata a favore dell'AIL l'Associazione Italiana contro le leucemie domenica 7 agosto a Palena a Chieti vedrà in campo la locale amministrazione comunale il Pescara Calcio nel corso della serata della solidarietà per Luca organizzata dalla sezione interprovinciale AIL Pescara Teramo fra i vari eventi è prevista infatti anche una lotteria in cui verranno messe in palio alcune magliette AIL che sono state autografate dai giocatori del Pescara Calcio in occasione del ritiro a Palena dove la formazione bianco-azzurra ha svolto la preparazione precampionato dal 14 luglio al 2 agosto scorso ora scendiamo in Lega Pro con il Teramo è stata la nota più positiva della sgambata del Teramo ieri contro l'Alba Adriatica e David Peterman ha fatto vedere al pubblico del Bonolis le qualità del suo sinistro su anche l'unico gol della partita lo ascoltiamo Peterman alla prima davanti al pubblico di Teramo hai già fatto capire di che pasta sei fatto sì sono contento del gol ma soprattutto della prestazione visto che sono parecchi mesi che non facevo una partita levando le ultime due tre amichevoli ma soprattutto ci siamo trovati come squadra come gruppo riusciamo a fare la maggior parte delle cose che proviamo in allenamento e quindi abbiamo ancora questo periodo di tempo per migliorarci ancora senti il ginocchio tu il trauma l'hai superato anche mentalmente hai ancora un po' di paura pensi di poter fare di più beh sicuramente posso fare di più soprattutto fisicamente non penso di essere ancora al 100% giusto perché sono passati otto mesi in cui la partita è una cosa che manca perché poi all'inno quanto ti pare ma poi la partita l'agonismo la concentrazione l'adrenalina quella ancora devo raggiungere i massimi livelli però mentalmente non ho paura sto bene quindi questo tempo prima del campionato mi aiuterà a migliorare ancora di più sono usciti i gironi resta il girone B per il terreno ma è un girone molto diverso da quello che anche tu hai conosciuto sì è un girone diverso ci sono molte squadre forti ma noi insomma non siamo da meno come noi leggiamo il loro nome anche loro leggeranno il nostro siamo pronti per affrontare il girone il campionato e possiamo dire che meglio così sarà un girone molto combattuto e ci divertiremo Venezia e Parma ma non solo Venezia, Parma, Reggiana Modena insomma le squadre i nomi sono quelli ma come ho già detto affronteremo tutti senza paura e senza timore perché il campionato è lungo e ce la giocheremo fino alla fine l'ultima sotto il profilo tattico centrocampo a tre centrocampo a due come ti trovi meglio? ma io ho sempre giocato davanti la difesa negli ultimi anni ma questo inizio di campionato questo inizio di stagione sto lavorando anche molto da mezzala e insomma non mi faccio non mi faccio problemi davanti alla difesa mezzala, trequartista dove posso dare il mio aiuto ci metterò sempre il cento per cento è tutto per questa edizione il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 torna domani puntuale alle 14 grazie per essere stati con noi ciao ciao ciao